Buongiorno a tutti oggi abbiamo ospite Gianluca d'Incalevis Dolomiti Contemporane. Gianluca buongiorno grazie di essere venuta. Allora sappiamo tutti già da parecchi anni questo progetto ci pervade perché è nel territorio, è nella comunicazione, è nelle persone in provincia di Belluna non solo adesso ci racconterei tu un pochino meglio. Vorrei che partissimo però capendo che cosa sono Dolomiti Contemporane e quando nascono e cosa sono arrivate ad essere oggi. Sì benissimo allora il progetto nasce nel 2011 e nel 2011 sappiamo da meno di due anni le Dolomiti avevano guadagnato lo status di UNESCO, di Patrimonio dell'Umanità. Io sono nato a Belluno anche se non ci ho vissuto a lungo da ragazzo e poi sono stato via lungo e sono stato anche distante dalle cose di Belluno e anche un po' dalle cose terrene diciamo ma c'è stato un momento in realtà un po' prima di Dolomiti Contemporane nel 2008 in cui io sono intervenuto nella politica culturale e artistica da principio della città anche se già da allora con una visione di apertura con un altro progetto che veniva prima di Dolomiti Contemporane che si chiamava Gaboels Giovani Artisti Bellunesi. Quello fu un progetto che durò un paio di anni, tre anni e che diciamo mi presentò in società perché io mi ero formato come architetto allo UOV e quindi nessuno sapeva chi era questo curatore. Allora c'è un pregresso. Gaboels per certi aspetti viene prima e anticipa alcuni dei ragionamenti propri di Dolomiti Contemporane. Ma dicevamo Dolomiti Contemporane poi facendo questo balzo di alcuni anni in avanti sorge come una sorta di test culturale per capire direi due cose fondamentalmente. Uno se l'arte contemporanea può essere uno strumento concretamente operativo rispetto a un'idea di rigenerazione e di costituzione dei paesaggi nel caso mio della montagna. Quindi capire se l'arte contemporanea è finzionale o funzionale e capire se pur rimanendo perfettamente se stessa può essere uno strumento concreto del rilancio di potenziali territoriali e due compiere una riflessione accurata sull'identità della montagna anche nel momento in cui essa ha guadagnato quel importante statuto. Unesco che fin dal principio è stato da taluni compreso e apprezzato da moltissimi contestato. Io stesso lavoro e con il nostro progetto che ora verrò a spiegare ospitiamo molte persone anche importanti. Abbiamo avuto e tra i nostri amici l'antropologo Marco Gé mi ricordo che quando io lo avvicinavo per portarlo da noi nel 2012 lui era a Torino messi un suo articolo su Repubblica mi pare dove criticava fortemente l'UNESCO dicendo state attenti voi umani che quando stabilite un grado di vincolo per un bene voi invece di liberarlo lo paralizzate mentre i potenziali in mano all'uomo funzionano e sono resi reali se usati non se protetti quindi state molto attenti ai vincoli di protezione che per alcuni aspetti comprendiamo tutti come cosa buona è giusta state attenti perché se i vincoli vengono dati in mano a persone che hanno una visione non trasformativa ma puramente conservativa rischi di portare paralisi dove vorresti portare sviluppo. Ti faccio scusami una domanda un po' provocatoria. Cosa c'entra l'arte contemporanea con il paesaggio? Hai unito due concetti che da un punto di vista popolare forse sono considerati gli antipodi natura, paesaggio, quindi scienza, ricerca scientifica eccetera o al massimo botanica e arte contemporanea. Cosa c'entra? Dove trovi il nesso e perché? Allora è molto semplice diciamo il paesaggio poi parliamo meglio del paesaggio perché il paesaggio nell'accezione in cui noi utilizziamo questa parola non è un'area di ambiente e territorio che presiste all'uomo. Poi parleremo probabilmente di progetto Borca dell'ex villaggio Eni. C'è una definizione che da Edoardo Gellner che è il grande trasformatore del programma sociale di Enrico Mattei in realtà lassù in questo villaggio vacanze per i dipendenti di Eni. Gellner dice da una sua definizione di paesaggio dicendo che il paesaggio è la sommatoria di ambiente naturale e azione dell'uomo. Viceversa tu potresti intendere il paesaggio in un'accezione più ecologica intendendo conciò il solo ambiente naturale ma non è questa l'accezione che interessa all'uomo perché l'uomo vive nel paesaggio e del paesaggio. Quindi è più interessante la definizione di Gellner perché prevede un'interazione tra uomo e paesaggio. Se è così abbiamo già detto che l'arte contemporanea che è uno strumento della rivalutazione critica del senso delle cose è uno dei migliori perché abbiamo acquisito il contemporaneo come strumento per l'uomo di valutazione e di cogenerazione dei propri paesaggi. Allora il paesaggio non è un prato, un paesaggio è fisico ma è anche culturale, sociale, economico e via dicendo. Se è vero quello che ad esempio dice Gellner che noi dobbiamo cogenerare i nostri paesaggi che non si generano da soli, dobbiamo farlo bene perché possiamo generarli male, chi fa questo? Tutti. Fa questo la politica, fa questo il civismo, fa questo l'uomo, fa questo l'uomo dotato di sensibilità e di ingegno. E sulla terra gli uomini dotati di sensibilità e di ingegno diventano scienziati, ricercatori o artisti che è la stessa cosa. C'è un artista è un ricercatore, non è un tizio etereo che quindi costruisce un non ragionamento decorativo, non nel nostro caso. L'artista ha la mente aperta, è un sensibile e l'intelligenza è una delle forme in cui si manifesta la sensibilità quindi può approcciare un paesaggio in modo intelligente e sensibile e aiutarci a liberarlo ad esempio dalle pastoie, divisioni stereotipe e di cliché che abbondano nel paesaggio dromitico e legato alla montagna. Poi che guardiamo un po' di immagini mentre parli degli spazi appunto, del paesaggio ma anche degli spazi antropici, antropizzati che poi avete recuperato, avete rivitalizzato, d'accordo? Poi mi dicevi che appunto non siete, non sei da solo in questo progetto, in Dolomiti contemporanea ma anche progetto Borghe. Naturalmente no, certo. Sì, allora adesso abbiamo fatto una piccola introduzione. Sintomaticamente così agisce il progetto. Adesso tu stai scorrendo alcune immagini relative proprio alla nascita perché noi, a parte quel progresso che dicevo di Gabbo, dove già c'erano le cose che tornano in Dolomiti contemporanea, è nel 2011 che affrontiamo il primo grande sito che ora stai vedendo, Sasmus in comune di Sospirolo, un grande expolo chimico Montedison finito nella sua fase industriale e produttiva che era servita per generare sviluppo e opportunità nel territorio. Poi finita questa parabola, dismissione della struttura industriale da parte di Montedison e un tentativo di rilancio che passa attraverso un restauro e un ampliamento produttivo di questo sito e la drammatica evidenziazione dell'incapacità dell'uomo di gestire le proprie risorse. Perché? Perché se, come è avvenuto qui e in molti altri siti di cui ci siamo occupati successivamente, tu l'uomo lo restauri, lo fai perché hai una chiara idea d'uso. Non devi restaurare un bene senza un'idea d'uso se non vuoi trasformarlo in un male e anche in un maledetto inghiottitoio. Perché poi se il sito non funziona, lo restauri e ancora non funziona, la gente d'attorno comincia a pensare che il sito è sfortunato, no? Non c'è nessuna sfortuna, c'è una mala politica. Allora cosa successe lì? Successe questo, che lavorarono gli architetti, lavorò la governance, lavorò l'economia, la politica e il sito diventò finalmente stupido. Perché se prima del restauro tu potevi passare per Sassumus e dire ma hai che dispiacere, quando ci passavi dopo il restauro che non aveva condotto a nulla, dicevi ma chi è il furbone che ha compiuto questa operazione? Dov'era la sua visione? Visto che è tutto fermo e abbiamo speso dei milioni. E allora questo sito problematico perché ci interessava. Perché io sono convinto che le dolomiti non si coltivi adeguatamente, attraverso un ragionamento intellettuale e culturale, l'identità delle dolomiti. E ci si accontenta spesso di immagini a bassa risoluzione, banali, stereotipe, le solite cose per cui tutti sanno che ci sono le dolomiti, tutti sanno di una marmotta, di una vacca all'alpeggio, di un libro più o meno folcloristico e scritto spesso molto male. Ad esempio secondo me non esiste una buona letteratura contemporanea di montagna, perché la montagna è difficile da traguardare. È talmente grande, troppo grande rispetto a noi, che noi abbiamo dovuto costituire intere categorie estetiche per fronteggiarla. E se tu verifichi che al di là delle buone relazioni alpinistiche o di salita alla montagna non c'è una letteratura pregnante sulla montagna come c'è sul mare, ad esempio. Io sono molto convinto di questo, ma sono convinto al di là della letteratura che bisogna fare un buon lavoro ogni giorno per costruire i propri paesaggi e quindi per portare azione oggi, altrimenti la montagna tende a essere una retroversione, uno sguardo nostalgico verso un passato che non c'è più perché oggi l'uomo fa i cementi, le città distruggono il paesaggio, inteso nel modo non nostro, e l'uomo devasta il pianeta. Non è vero, l'uomo devasta il pianeta, contemporaneamente fa delle cose molto buone. E quindi noi nel 2011 entriamo in questa fabbrica, dopo che tutti gli altri hanno fallito, diciamo, e l'attrezziamo. È, diciamo, un cimitero, perché è ferma da molti anni, mettiamo insieme tutti e decidiamo che lì trasformiamo questo luogo inerte in un grande cantiere della riflessione culturale sulla montagna e che acceleri con l'obiettivo, visto che non l'hanno fatto gli altri prima, di capire se questa struttura logistica, che è anche straordinaria per valori estetici e anche contestuali, siamo molto vicini al Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, lo vediamo lì dietro, Sasmus, vediamo le nostre prime montagne dolomitiche, se questo sito può tornare utile al proprio territorio, quindi non si tratta di fare una scampagnata con gli artisti per 3-4 mesi, che è il periodo in cui poi noi utilizzeremo quel sito, da luglio a ottobre del 2011. Si tratta, come dicevo prima, di testare uno strumento, di capire se sia credibili e utili, ripeto, senza trascinare l'arte dentro ambiti che non le competono, l'arte è l'arte. Nel frattempo io proseguo con l'immagine, abbiamo anche gli altri siti. Sì, qui siamo sempre nel sito di Sasmus, adesso andremo via da qui, ma insomma qui vediamo come il cimitero viene in quell'estate 2011 trasformato in un grande cantiere di attivazione culturale attraverso l'arte contemporanea, questi sono i vari edifici che molte persone, più di 10.000, videro quell'estate che noi trasformarmo in spazi espositivi, come tutto anche l'attorno, perché poi dilagammo nel paesaggio e territorio. Dove venivano queste persone? Gli artisti, allora funziona così da noi sempre, l'istituto centrale attorno a cui si forma il progetto in un sito è una residenza, io devo avere una capacità di accoglienza, qui c'era un bar ad esempio, chi te lo fa fare, di fare un bar per gestire una ex fabbrica che dove starei solo 4 mesi, sembra una stupidaggine, trovi il gestore, il gestore non fa tempo a fare due soldi e deve già andare via, quindi sembra una sciocchezza, no, il meccanismo di accoglienza, ecco ora stiamo vedendo quella che era la foresteria dove io alloggiavo gli artisti, più di 100 da tutto il mondo in quella prima estate, ma al pian terreno c'era un bar che feci con i partner, già allora avevamo 100 partner e ora sono diventati 500, poi ti racconto meglio cos'è l'interazione con i partner, ma naturalmente se tu vuoi accendere un sito di migliaia e migliaia di metri quadri, che è delocalizzato e dire delle sue attitudini e trasformarlo da qualcosa di morto in qualcosa di vivo, ci devi mettere dei dispositivi attrattivi che non sono solo il bar, però da noi incide, ma il bar serve poi per dar da mangiare agli artisti in residenza e per gli ospiti, è un luogo dove intavolare, il bar è una delle culle della civiltà diciamo, aveva molto senso avere un bar e una logistica di accoglienza in questo sito e per questo e per la nostra capacità di lavoro e di comunicazione che abbiamo attratto molti artisti e curatori già in quella prima edizione e moltissime persone che sono venute a vedere il sito. Cosa ha comportato ciò? Da un lato che le persone hanno potuto fruire dei contenuti, ogni artista che individuiamo viene portato da me o da un altro curatore e è bravo, gli artisti non sono tutti bravi, invece bisogna lavorare con quelli bravi. Le persone, poi il cosiddetto pubblico, può capire ciò che fa l'artista, può al limite anche non capire quello ma capire diciamo l'obiettivo culturale e cosa è successo lì come in altri siti successivamente? Che mentre c'era un enorme scetticismo prima del nostro avvento, perché il sito era fermo da troppo tempo, dopo sono fiorite le trattative commerciali e di vendita perché noi abbiamo diciamo rinfrescato l'appeal del sito. Questo è un po' una metafora che ogni tanto utilizzo, il sito obiettivamente sono va lì e non è cieco, è straordinario e noi l'abbiamo visto subito, però è come avere una fruttiera di ottima frutta esotica in cucina e la luce è spenta, non la vede nessuno e va male, bisogna solo, questo solo lo metto molto tra virgolette perché è un grande sforzo, accendere la luce per mostrare al territorio che questi siti di cui ci occupiamo noi sono già suoi, che non sono morti perché noi scegliamo quelli che hanno intatto un potenziale di rivalutazione e che possono e debbono essere ripresi all'interno di una politica responsabile e sostenibile del uso del territorio, del paesaggio diciamo. E effettivamente è andata così, è andata così nel 2011, è andata così nel 2012, poi ci arriviamo, siamo ancora a Sasmus quando siamo arrivati in una ex fabbrica di occhiali a Taibona Gordino, quindi ci siamo spostati più a nord sulla statale Gordina e nel 2012, poi già al secondo anno, il progetto aveva talmente colpito sia a livello locale ma ancora di più a livello generale in Italia e cominciavamo già allora con le prime partnership internazionali che fumo contattati dal sindaco Dierto Casso e a settembre del 2012, mentre lanciavamo la seconda rigenerazione di una fabbrica, quella che dicevo a Taibon che vediamo fra poche immagini, riaprivamo anche l'ex scuola di Casso inaugurando anche una importante crescita nella nostra politica perché come ti raccontavo finora, mentre nei primi due anni noi affrontavamo alcune fabbriche, feretro, crateri del paesaggio e li occupavamo tra virgolette per pochi mesi e quindi l'azione era un blitz e anche un forcing e poi andavamo via lasciando in eredità, ecco le prime immagini della fabbrica del 2012 a Taibona Gordino, lasciando in eredità al territorio una serie di relazioni vivificate che poi portavano alla vendita o all'affitto di spazi che invece languivano lì da anni o decenni, ecco che questo lo puoi fare in una fabbrica come quelle due che abbiamo visto, belle, interessanti ma non connotate da un'identità straordinaria come lo è il Vaiont o come lo è l'ex villaggio Enni di Borca di Cadore, cioè quando arrivi in un sito connotato da questo peso specifico così grande in ragione della sua criticità e problematicità e anche del suo valore storico nel caso di Borca non puoi neanche pensare, se usi il cervello, di stare alla quattro mesi, in quattro mesi neanche entri, il Vaiont secondo me non va affrontato eccessivamente in punta di piedi perché è un luogo di tutta l'umanità, tendenzialmente i siti che scegliamo noi non appartengono solo al territorio in cui si trovano, appartengono a tutti perché sono straordinari o emblematici, ecco che il Vaiont non è certo dei soli erotani cassani e longaronesi, diciamo che è dell'uomo e quindi però se tu lo affronti sai dove stai entrando, in un territorio dove la problematica, la criticità è altissima ancora oggi, a ben oltre mezzo secolo della tragedia il 9 ottobre del 63 ed ecco che quando il sindaco di Erdo e Casso, allora Luciano Pezzin, ci disse ma voi ve la sentite di venire nel Vaiont e di prendere la scuola elementare che era stata restaurata da un allora giovane architetto bellunese Valentino Stella e che il sindaco aveva preservato e non aveva voluto dare in mano a qualcuno che ne avrebbe fatto ad esempio l'ennesimo museo della memoria, il sindaco come tanti altri abitanti di quella terra lì ne aveva piene le scatole di vedere la propria socialità, si diciamo assoggettata a una tragedia, la tragedia è venuta e sappiamo tutti cos'è? Dappertutto al mondo sono venute tragedie, se noi dovessimo vivere di sola memoria in tutti i luoghi in cui qualcuno è morto noi non potremmo toccare la terra, qui è un po', venendo al Vaiont si viene un po' anche a capire come noi intendiamo alcuni altri concetti come quello di memoria, memoria non è un concetto salvifico, la memoria non solo nel caso del lutto in generale o viene elaborata criticamente attraverso strumenti oppure può essere un agente passivatore patogeno, il Vaiont deve essere una terra dei vivi e invece troppo spesso ancora oggi è la terra in cui noi ci ricordiamo di quei morti, ma invece la terra in cui ci si ricorda di morti è il cimitero, la terra dove abita la gente va attivata attraverso le pratiche e io non sono disposto a credere che il paesaggio del Vaiont coincida con il paesaggio della tragedia ci fu la tragedia e ci sono un sacco di altre cose che noi mettiamo in luce perché dal 2012... Cosa hai scoperto in questo paesaggio dove appunto è predominante questa idea sempre di memoria e di passato di un racconto all'imperfetto voglio dire, invece tu cosa hai trovato al presente e al futuro? Allora noi siamo molto conciliativi, poi ti vengo a spiegare questa cosa come mai abbiamo tutti questi partner però in tutti i siti in cui andiamo noi diciamo che è successo, c'è stato uno stop tendenzialmente noi rigeneriamo, cioè riportiamo la vita nei siti morti per metafora di solito sono ex fabbriche oppure l'ex villaggio Eni di cui parliamo fra poco dove si è conclusa una parabola diciamo produttiva o d'uso e bisogna immaginarne un'altra ma al momento presente questi siti sono fermi come tanti altri su cui lavoriamo abbiamo lavorato, progettato o abbiamo idee l'ex polo minerario di Vallemperina, sempre nella Gordino cosa aspettano questi siti? Che si svegli qualcuno noi in questo non siamo presuntuosi, affrontiamo con molta strategia i siti magari li studiamo per anni, poi costruiamo le condizioni per entrare e dare uno slancio, uno spunto di visione attraverso la pratica, non attraverso una teoria è molto semplice, come le fabbriche sono ripartite anche nel Vaillant quando siamo arrivati siamo stati probabilmente i primi a portare, ecco qui vedi un'immagine, quella precedente del 2012 dove un artista, allora Stefano Cagol lo dotammo di un'attrezzatura, questo era un raggio di luce che andava a 15 chilometri che facciamo passare sopra al coronamento della diga e poi entrava in Val di Zoldo era uno di quei due cannoni di luce che stavano all'indomani dell'11 settembre a Ground Zero costruiva una ditta di Alessandra e l'artista cannoneggiò l'Europa partendo dal Vaillant con questo progetto The End of the Border of the Mind la fine del confine era un suo concept che lo portava alla biennale di Barents e partì significativamente da qui da dove c'è un confine tra ieri e oggi tra vita e morte anche tra Veneto e Friuli è un luogo molto liminale questo del Vaillant e dove noi non abbiamo avuto mai il minimo dubbio quando il sindaco quindi mi invitò nel 2012 a riaprire lo spazio di Casso io dissi sì la scuola diventa un centro per la cultura contemporanea del paesaggio della montagna dove i vivi vengono a ragionare sul futuro non solo a guardare il passato che ripeto conosciamo bene siamo tutti documentati e così fu naturalmente è difficile cosa succede se vai nel Vaillant ecco questo è un aspetto essenziale dove ad esempio abbiamo attivato 2Calls che è un grande concorso che trasformerà la diga del Vaillant poi se c'è tempo ti dico andi qui ma la cosa importante è che noi viviamo all'interno delle nostre fabbriche e dei nostri siti quindi per andare nel Vaillant tu devi vivere lì e quindi io ho vissuto due anni a Casso dove allora vivevano solo 17 persone che tendenzialmente cominciarono a parlarmi solo dopo alcuni mesi perché all'inizio era uno strano tipo di straniero il contemporaneo la scuola restaurata non attraverso i caratteri dell'architettura rurale per fortuna quindi una scuola con un progetto di architettura anche molto serio che alcuni non hanno ancora capito però magari studiare un po' per capire le cose o avere una sensibilità ma la sensibilità noi l'abbiamo sempre per quello che ti dicevo noi siamo talmente interessati a questo territorio di montagna che è il nostro e a rigenerare le sue risorse che sempre andiamo a vivere io sono dieci anni che vivo nelle fabbriche e per due anni dovetti vivere lo feci volentieri nel nido d'aquila di Casso perché è solo dall'interno del territorio del paesaggio che tu puoi generare una spinta abbastanza intelligente e forte se sei capace di strategie culturali e non solo per cercare di giungere a questa impresa della rivalutazione di questi siti che sono potenziali ripeto per il territorio e quindi poi andare nel Vajonto vuol dire che tu trasferisci le tue istanze esistenziali non di lavoro nei siti noi da cinque anni viviamo nell'ex villaggio Enni di Borca di Cadore viviamo dove vogliamo vivere perché vogliamo stare nella montagna vogliamo arrampicarla con le mani e anche culturalmente definisci noi noi allora diciamo che il progetto non lo faccio da solo naturalmente io sono l'ideatore di Dolomiti Contemporane diciamo un po' il trattore quello che non si ferma mai ma c'è insieme a me un gruppo variabile diciamo che vada che comprende tra 10 15 e 30 persone a seconda del periodo dell'anno dei progetti attivi dei cantieri attivi e tutte queste persone sono capaci molto capaci spesso sono giovani molto giovani 18-20 anni spesso della nostra provincia quelli così giovani perché come questo sito ora vediamo il castello di Andraza è una grande risorsa del territorio anche quel giovane di 18 anni lo è magari però lui non sa dove andare magari sente dire da quanto è nato perché è nato a Belluno ma qua non si può il far niente sai un po' come a Belluno una provincia ricca come Piacenza siamo appena andati a raccontare addormiti contemporanei a Piacenza dove c'è ricchezza e poca visione sto un po' generalizzando non è che sono tutti ciechi qua luoghi comuni però ho sentito dire sì comunque io fin da bambino non ci sono stato tanto a Belluno ma sentivo sempre dire questa cosa non si può il far niente ma qua non siamo in città ma cose dette da gente che tutto sommato sta bene c'è un conto in banca e non si danna l'anima per trovare delle soluzioni o delle idee ma noi viviamo delle idee anzi ti devo dire che la cosa più concreta che c'è al mondo secondo me sono le idee non le fabbriche perché le fabbriche ripartono con le idee invece se tu non hai l'idea noi siamo partiti da quello la fabbrica non riparte mai la fabbrica non è reale la cosa più reale che sa produrre l'uomo sulla terra si chiama letteratura dal mio punto di vista tanto per levar delle idee un po' poco accorte o superficiali a delle persone che forse non fanno questo ragionamento cioè noi non siamo degli strani tipi di astrattisti siamo quelli che hanno risolto dei casi concreti attraverso l'applicazione delle capacità della sensibilità dell'uomo a questi siti che erano stati dati per morti da gente che non aveva idee se tu vieni a Borca trovi ogni anno una ira di dio di persone sono artisti sono architetti sono paesaggisti sono designer sono filosofi epistemologi uomini di scienza sono persone che hanno voglia di mettere in gioco loro stessi per ragionare attorno al destino della nostra risorsa e i primi a fare questo sono quelli dello staff che come ti dicevo alle volte sono molto giovani molto capaci perché poi il progetto è molto complicato quindi io lo apro sempre a tutti ma o sei capace di fare alcune cose o non ci puoi stare anche perché abbiamo talmente pochi soldi rispetto al nostro lavoro se io assommo i costi teorici di tutta la nostra attività durante l'anno in alcuni anni questo costo era prossimo al milione di euro noi non abbiamo mai avuto niente neanche lontanamente vicino a questa soglia e quindi facciamo sempre tutto con la nostra volontà e la nostra volontà si manifesta in primis nella coerenza del gruppo di lavoro i giovani fanno un lavoro già da adulti perché sono molto capaci e motivati e poi abbiamo il territorio che ci segue e qui c'è il discorso che ti faccio fra poco sulla tu ospiti questi giovani cioè loro hanno una residenza così come era successo a Stasmus anche quelli del tuo staff gli ospiti lavorano per te sono in qualche modo riconosciute questo cioè è un concetto di lavoro o è un concetto di come è che si può dire di partecipazione totale in un certo senso secondo me è un concetto di responsabilità culturale allora sei un diciottenne come Alice una delle ragazze che è stata mia assistente che poi ha vissuto a Borca due anni oltre con me ha tutti dieci a scuola faccio un esempio e si annoia perché poi le rimande molto tempo e sta qui e qui le dicono sempre che non si può fare niente e poi vede un progetto che invece prova a fare qualcosa e ci viene io la valuto e immediatamente lei diventa se è capace di fare è motivata diciamo ferocemente motivata e bisogna essere allora diventa subito non un lavorante una parte essenziale del progetto a cui ci dà subito un'enorme responsabilità e questo è un grande testa anche di formazione per un diciottenne non sono tutti così ci sono i webmaster la grafica la comunicazione quindi ci sono anche delle persone che vengono pagate quando ci sono soldi ma se non c'è l'impegno personale delle persone e quindi quello che ti dicevo un poco poco fa che ad esempio io leggo Dallomiti Contemporanea come un progetto di arrampicata culturale perché io voglio arrampicare ma voglio anche pensare a cosa significa arrampicare cos'è che ti muove così con questa passione con questa energia hai una visione l'hai sempre avuta ti si sta concretizzando e la vedi più chiara ma allora diciamo che ognuno ha i propri hobby horses no io a un certo io mi sono formato mi sono laureato in architettura a Venezia allo Juav non mi è mai interessata molto quella facoltà non ci trovavo neanche tutti sti geni quindi non ho avuto moltissimo lì ma in realtà mi c'ero iscritto anche perché non mi convinceva diciamo per tenere destra una parte dell'esistere con cui io non ero in perfetto accordo e però non volevo escluderla quindi ti dico una roba un po' strana ma mi sono iscritto ad architettura perché non mi interessava ne mi piaceva perché io mi occupavo di autoformazione e leggevo leggevo e studiavo quindi io per vent'anni sono più o meno stato chiuso in una stanza a leggere fino a venti ore al giorno a trentaquattro anni avevo già letto diecimila libri erano i migliori perché avevo deciso di leggere in modo piramidale il primo libro il più importante poi il secondo il terzo per non perdere tempo e per formarmi una conoscenza intellettuale e sensibile della realtà perché non capivo bene dato che ero nato senza averlo chiesto dove stavo ho avuto bisogno di vent'anni di studio e lettura quindi non di un percorso d'architetto di un percorso di formazione culturale intellettuale che nessuno capiva dove mi avrebbe portato perché c'era un tizio che stava in una stanza a leggere Wittgenstein Heidegger Rilke invece che andare fuori con i suoi simili io non avevo molta fiducia nei simili in effetti i simili ad esempio lasciano andare a remengo il patrimonio cosa succede? che dopo vent'anni di formazione a un certo punto sono uscito non sono propriamente esploso ma ho deciso improvvisamente di attivarmi e lì è nato quel progetto Gabo se poi te lo metti contemporanei quindi la mia formazione ora io oggi sono diventato già il secondo anno della mia attività un ricercatore un segnista di ricerca in università di economia a Ca' Foscari in un dipartimento di management delle arti e della cultura quindi vengo letto alle volte come un manager niente di più sbagliato io non so niente di economia e finanza neanche mi piacciono ma non è che quindi non mi piace la matematica so invece talmente bene cos'è una visione di cultura attivatrice perché ogni parola la dobbiamo cogliere in accezione cultura può essere star sul divano cultura può essere contemplazione per noi non è così per noi cultura è un test di verifica del fatto che la cultura contemporanea insieme all'arte contemporanea possano funzionare possano servire a qualcosa perché o contribuisco a definire culturalmente l'identità dei luoghi in cui vivo e a cui appartengo o lo fa un altro e quell'altro magari non sa scrivere o dice banalità quindi io non voglio farmi rappresentare da altri e voglio come ti dicevo prima dimostrare che il contemporaneo non è futile non è esornativo e non si tratta mai di mettere una cosa bella dentro una scatola vuota è un ragionamento dozzinale non ci sono scatole vuote i siti in cui lavoro io non sono scatole vuote sono contenuto non contenitori in questo momento quest'anno voi avete un principio mi dicevi guida che appunto vi sostiene vi dà appunto delle linee direttrici anno per anno nel 2019 e su che cosa state lavorando? al di là del fatto che abbiamo una chiara politica e quindi ci occupiamo di rigenerare siti nel territorio nelle Dolomiti alcuni siti sono latenti alcuni siti sono attivi e quest'anno i siti attivi principali sono l'ex villaggio di Corte di Cadore a Borca il forte di Montericco a Pieve di Cadore il paese di San Vito dove siamo attivi con l'Università di Padova e Comune stesso è un progetto legato a Cortina 2021 e alle nuove varianti stradali che poi ci porteranno verso Cortina 2021 e pare anche il 26 forse che taglia fuori i paesi dal traffico di scorrimento e quindi la bisogna pensare i paesi perché non muoiono ma si possa cogliere un'opportunità quindi San Vito con San Vito a Pede è un altro luogo molto importante per noi anche quest'anno dove siamo attivi con una progettualità poi c'è il Vaiont con Casso dove abbiamo il concorso di cui oggi non riuscirò a parlarti credo ma lo spazio di Casso che apriamo e a luglio inauguriamo le esposizioni collettive ora abbiamo una trentina di artisti in residenza ma sono più di cento quelli che ogni anno partecipano alle nostre attività abbiamo moltissime attività in corso la prossima settimana ci sarà il corso di cultura in ecologia a San Vito di Cadore anche lì siamo parte attiva il corso di ecologia quest'anno ecco partirei da questo è incentrato su Tempesta Vaia sappiamo bene cosa è Tempesta Vaia cosa è successo alla fine del mese di ottobre scorso non solo nei nostri boschi Dolomitici ma in tutto il Triveneto e la Lombardia ecco direi questo se è vero che noi ci occupiamo responsabilmente di ripensare di rifunzionalizzare aree del nostro patrimonio che sono affondate nel nostro paesaggio e questo paesaggio è alle volte ridicolo risibile perché è trasformato in una cartolina invece noi vogliamo averne cura responsabile se tutto ciò è vero che noi vogliamo avere cura responsabile del paesaggio era a quasi naturale automatico che quest'anno il concept principale ogni stagione effettivamente ha una parola un'espressione alla base forse Tempesta Vaia perché noi di questo ci vogliamo occupare di questo territorio e viviamo in un bosco e viviamo nella montagna ora Tempesta Vaia è il nome dato un po' a caso da un ufficio meteorologico di Berlino che è stato dato a questo evento che io non definisco drammatico ma sicuramente cruento e il nostro concept stagionale è Cantiere di Vaia cioè io non sono interessato a piangere sugli quasi dieci milioni di alberi caduti voglio subito capire dal 29 ottobre cosa si può fare quindi Tempesta Vaia è il nome dell'evento funesto Cantiere di Vaia Cantiere è Dolomiti Contemporanea e se io devo trovare una parola per definirci Cantiere quindi quest'anno abbiamo definito questo paesaggio all'indomani di Vaia come il corpo di Vaia il paesaggio è il corpo è un corpo steso o lo lasciamo steso o ci lavoriamo e Cantiere di Vaia è la nostra attività questa attività ci porta a lavorare con un sacco di competenze tecniche tecno-scientifiche con le università con i dipartimenti legati a architettura paesaggio progettazione sostenibile con i corsi di laurea in scienze ambientali e forestali con i forestali con gli ingegneri idraulici diciamo che è dal fine dello scorso ottobre che io lavoro poco con gli artisti per alcuni mesi abbiamo lavorato molto con i tecnici perché o tu ti rendi conto bene e approfonditamente di cosa è stata Vaia se no farai poi dei lavori approssimativi in ambito culturale e artistico allora il fulcro quest'anno è cantiere di Vaia quindi in tutti i siti di cui ti ho parlato e anche alcuni altri noi portiamo gli artisti ma anche tutti gli altri nostri ospiti architetti progettisti paesaggisti e via dicendo pensatori a ragionare su cosa è accaduto e su cosa bisogna fare su cosa è accaduto abbiamo le idee chiare dopo mesi di analisi su cosa bisogna fare mai mai nella vita il file è complesso sai che questo post emergenza di Vaia verrà smaltito in cinque anni probabilmente cioè è talmente grande la cosa rispetto alla scala del paesaggio che ci mettiamo alcuni anni per processare questa cosa e quindi ci sono moltissime cose da fare c'è una filiera di trattamento di questo legno schiantato che parte dall'esbosco dai progetti di taglio dall'esbosco dal trasferimento del legno fuori dal bosco in strada dal trasferimento del legno in strada da qualche parte a una centrale a biomasse a una segoria o a un acquirente commerciale che se ne è garantito una grande quantità poi bisogna capire come si fa a trasformare questo legno in che cosa ci sono problemi legati agli insetti che arriveranno al costo del legno tutta questa cosa diciamo noi la tratteremo nei prossimi anni dal punto di vista culturale perché cosa succede? succede che c'è una prima bolla esplosiva anche necessaria mediatica in cui tutti dicono quanti alberi caduti e questi sono i media che non sempre fanno informazione soprattutto all'inizio sparano numeri tutti sparavano numeri all'inizio non tutti noi no noi ascoltavamo poi c'è la fase tecnica in cui si compiono le valutazioni siamo andati a cento convegni in questi mesi alcuni erano buoni altri meno molti erano buoni è stato un lavoro molto importante dei tecnici poi cosa succede adesso? che le informazioni dei tecnici tendenzialmente stanno nei medium dei tecnici cioè se tu vuoi parlare della fisiologia del bosco prima o all'indomani di vaia o sei capace di intavolare un ragionamento culturale oppure puoi raccogliere i dati in una dispensa tecnica e poi se li leggono i tecnici questi dati quello che facciamo noi sempre attraverso il nostro progetto che è molto eterogeneo nella composizione anche dei suoi partner noi abbiamo 500 partner molti sono fondamentali della nostra provincia ci danno le cose che non possiamo permetterci il latte il pane il cibo i materiali per lavorare nella manutenzione dei siti per costruire i lavori degli artisti le logistiche non ne cito nessuno se no trascuro gli altri perché sono tanti ci sono gli istituti di ricerca ci sono le università ci sono un sacco di musei e fondazioni italiane e estere ci sono i ministeri della cultura di diversi paesi europei quindi ha una scala diciamo modulabile per orbite diciamo di elettroni sempre più ampie noi costruiamo il nostro paesaggio delle relazioni che è quello che sostiene le attività e siccome diciamo è eterogeneo molto eterogeneo culturalmente il nostro habitat il nostro ambiente la nostra ecologia diciamo è variegata siamo dotati di un apparato radicale molto vasto ciò comporta che non si corre il rischio noi cerchiamo d'altro canto di evitarlo proprio come lineamento del progetto non accade mai che il professionista esperto del proprio ambito possa rimanere fermo immobile nel suo angolo dove serve a poco e quindi quando ci sono gli scienziati forestali sempre noi gli mandiamo gli artisti perché siamo d'accordo ad esempio con l'università di Padova a lavorare in modo interattivo cioè le competenze devono essere intersettoriali devono essere legate il coltivatore abbiamo molti artisti che si occupano di coltivazione o comunque di cibo allora tutto è cibo o nulla è cibo la cultura è un cibo e questa cibagione si deve giovare di elementi eterogeni per mettere insieme non tutti in modo ecumenico sono racconti quelli che stai facendo che appunto mi fanno pensare che appunto si possa forse lo state già facendo ma si possa ancora di più seminare in un certo senso penso alle scuole penso appunto penso sempre molto ai giovani perché alla fine sono loro che portano avanti già dai piccoli dai piccoli giovani molto piccoli ecco quindi l'idea che oltre che magari intercettare questi pubblici comunque esperti o settorializzati si possa anche andare a seminare in terreni certamente non dico vergini ma quasi è bella è quello che state facendo in realtà è questo allora il progetto si legge anche come un grande meccanismo di formazione questi esperti diciamo che ti ho citato non sono il pubblico sono come gli artisti artisti o scienziati è la stessa cosa se li fai lavorare bene sono tutti più forti insieme e loro stanno riprocessando questo materiale poi pubblico è una parola che a me personalmente non piace mi piacciono le persone diciamo perché pubblico è una specie di concetto che prevede un indifferenziato invece le persone sono differenziate il pubblico non lo usiamo mai ma nei nostri siti noi attiviamo continuamente processi di stimolo culturale e azioni di formazione ti faccio un esempio a Borca di Cadore noi ogni estate ospettiamo dei workshop che portano decine di architetti decine di studenti di accademi di belle arti di tutta Italia al sud al centro al nord Italia due anni fa mi accennavi prima tu noi abbiamo letto abbiamo sentito abbiamo anche visto insomma di H-Farm questa realtà di Riccardo Donadonna appunto in provincia di Treviso che aveva appunto così stabilito una partnership con Dolomiti Contemporanea e Progetto Borca che cosa avete fatto con i bambini in quell'occasione è una cosa che si può ripetere prevedete di ripeterla al momento no ti spiego intanto cosa è stato allora quello che ti dicevo abbiamo moltissime attività anche queste state legate alla formazione più o meno tecnica per persone diverse che spesso vengono messe insieme tre stati fa abbiamo conosciuto Riccardo Donadonna che ci ha conosciuti apprezzati subito e per la straordinarietà del sito di Borca e anche per diciamo il coefficiente sperimentale e rinnovativo del nostro progetto Donadonna è un innovatore quindi fa presto accogliere un altro innovatore io preferisco dire rinnovatore di noi e quindi ci siamo diciamo conosciuti piaciuti e abbiamo deciso di fare insieme un Dolomiti Digital Camp quindi in quell'estate abbiamo ospitato alcune centinaia di bambini ragazzini sfruttando le logistiche straordinarie di questo luogo eccezionale della cultura della storia d'Italia che è l'ex villagione di corte di Cadore i ragazzini quindi hanno studiato le materie attraverso questo camp estivo connessi al digitale il coding la robotica e via dicendo però l'hanno fatto in un ambiente reale non retina tra il pelmo e l'antelao dove hanno anche capito ma i ragazzini sono svegli lo sapevano già anche se sembrano sempre da farti solo sugli smartphone che le montagne erano reali il coefficiente tecnologico che c'è all'ex villaggio di Corte non è altissimo non ci importa nulla di questo il digitale non è avere una presa di corrente in ogni dove è un po' usare il cervello anche attraverso la disponibilità di alcuni media contemporanei ma non è un dogma quindi Dolomiti Digital Camp in un luogo analogico perché questo sito noi lo riprendiamo perché è stato fatto negli anni 50 e poi dal 91 è fermo era un luogo molto intelligente e sensazionale dove compiere un'esperienza di formazione in questo caso legata ai bambini ma i bambini hanno lavorato con gli artisti in residenza che quindi hanno fornito temi, spunti e progetti e quindi c'è stata anche lì questa nostra naturale interazione tra i generi che è nel DNA formativo di Dolomiti Contemporane ecco c'è questo la cultura è un meccanismo di formazione non di intrattenimento dal mio punto di vista è un vettore responsabile capace quindi noi poi vogliamo i risultati concreti ciò facendo non trasformiamo l'arte in qualche altra cosa l'arte è l'arte tutto ciò si fa attraverso le persone che ci credono lo staff le centinaia di partner e le strategie ti faccio un passaggio che è questo c'è chi è triste per Tempesta Vaia noi no il bosco si sta già rinnovando dobbiamo guidare sempre il nostro paesaggio c'è forse una possibilità sempre più concreta che nel 2006 vengano le Olimpiadi e d'altro canto cortina ci sono già da tempo garantiti i giochi del 2021 ora cosa succede se vengono le Olimpiadi beh intanto noi abbiamo invitato il presidente della regione i suoi assessori a venire a vedere l'ex villaggio Eni perché prima di costruire un villaggio nuovo sappi cosa hai in casa non si tratta di lucidare i peltri di famiglia tu o sai cosa hai in casa o no invece l'assessore regione no no lo sapevano ebbene noi però glielo ripetiamo perché lì c'è già una colonia che è grande abbastanza per ospitare una stazione logistica legata a un grande evento sportivo si fa non si fa non lo so noi siamo quelli che poniamo la riflessione se aspettiamo gli altri gli altri non la fanno quindi sta a noi questa è la responsabilità dopodiché se vengono le Olimpiadi è molto bene anche se è sempre un pericolo no perché molte Olimpiadi forse non sono state fatte bene però io leggo Vaia e le Olimpiadi ad esempio molto correlate perché se vengono le Olimpiadi diciamo che il governo a tutti i livelli è costretto a tenere destra l'attenzione sul territorio fino al 2026 viceversa pensa se fosse venuto Vaia ma non le Olimpiadi avrebbero forse fatto tutto per bene lo stesso il nostro governo Veneto ha saputo fronteggiare l'emergenza di Vaia ma poi tutto sommato passano i mesi passano gli anni non è una novità pensa all'Aquila vanno tutti a dormire e il paesaggio rimane lì deflorato non parlo solo di alberi invece questi signori sono tutti costretti se ci sono le Olimpiadi a commisurare il paesaggio e il paesaggio sul paesaggio è passato a Vaia quindi io leggo Cortina 2026 anche come un'opportunità grande di sviluppo e anche di rigenerazione territoriale e ambientale rispetto a Vaia è un'occasione di riprocessare i nostri siti per farli vedere il sito di Borca se lo fai vedere ai tuoi ospiti internazionali hai delle storie da raccontare il signor Enrico Mattei il signor Nikita Cruscio e via dicendo allora Gianluca io ti dovrò rinvitare perché io tornerò esatto perché la mia idea era di riuscire a parlare di tutto ma non ce la facciamo c'è tanta storia c'è tanta storia pregressa c'è tanta riflessione che è bello ascoltare senza interrompere perciò non ti ho interrotto e ci sono ancora tanti altri progetti appunto in cantiere che state preparando costruendo che stai pensando insieme alle persone con cui lavori che è bello far sapere appunto raccontare te li racconterò molto volentieri ne abbiamo molti fuori dalla provincia a Palermo a Piacenza a Roma eravamo tre giorni fa ci muoviamo molto da un lato parliamo anche di queste cose perché appunto da bellunesi prima dicevi i ragazzi che lavorano con te dicono ho questo sentito dire non c'è niente da fare il bellunese è sempre chiuso non è vero gliel'ha detto uno zio pigro in realtà poi diciamo che io sono lo zio non pigro da un lato noi invitiamo tutti qua dall'altro poi abbiamo le catapulte e spediamo tutto quello che facciamo qui fuori da qui e non si tratta di fare la cova i bellunesi nel mondo questa cosa c'è in realtà c'è moltissimo nel DNA sì c'è questo e poi ci sono comunque alcuni uomini che vanno nel mondo e altri che stanno fermi in poltrona raccontiamo anche quello allora sì volentieri ti ringrazio in bocca al lupo per tutto e continua così grazie grazie a tutti ciao arrivederci